Ciao a tutti ragazzi, sono Mr. L, ovviamente lo sapete, e sono qui in compagnia di... Qualcuno molto depresso... Gli Krizz. Ovviamente voi lo saprete perché giustamente il povero Mr. L non c'è un Xbox One, quindi se c'è un gameplay di Call of Duty sapete che è con il PS4 di Krizz. Io non sono più abituato a fare gameplay in doppio. Mi sento a disagio. E non è il primo video che facciamo oggi, almeno non è il primo video che proviamo a fare, sperando che anche questo qui non si sputtani. Beh, quindi, diciamo, è una classica partita di Call of Duty dove l'unico obiettivo è quello di ucciderci in un altro, finché nessuno rimarrà in piedi. E finché qualcuno si incazzerà e lancerà il joystick dalla finestra, e tu uscirai di casa mia. Ok, quindi... Sapete già che si incazzerà. Prendo subito la mia... Io prendo un'arma sperando di non farmi colare. Mi metto già il tappo dietro, va? No, sì, tutto a posto. Ma devo ancora caricare la texture. Lo so. Oh mio Dio, c'è rimasto di merda. E infatti avevo detto, vedevo la tua, tipo, tutta bianca. Ma che cazzo di schiena sto qua, oh? Il Chris mi ha modificato le texture, stavo dicendo io. Eh, sono un hacker. Perché il Chris mi tocca le mie robe? Le tue robe. Oh mio Dio, le tue robe. La mia classe. Ah, la tua classe, ok. Ma sempre noi stai campionando lì sopra, ragazzi, non sono sicuro. Chi, io? No. Ah, un bot. I bot campioniamo lì. Ah, mi devo mettere bene. Cazzo, ma beh, si inciampa su un masso. Io ho giocato tutto Dark Souls 2 con il riflesso. E tu non sai fare una partita con lo DioTi? Ma dai, Chris. No. No, no. Ah, mi ho ucciso te. Come è che se? No, 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 ti ho ucciso io. No, io, no, mi ho ucciso, mi ho ucciso. Mi ha sperato quello che era dietro di te. Io ho sperato a te. Eh, fin qua ci sono arrivato anche io. Vai, vai. Ma io, non so. Se volete pro gaming, guardate lo schermo sotto. Se volete. Sotto c'è i miei starelli, sopra c'è i Chris. No. 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 Lo sto giocando con l'occhio sinistro chiuso, ragazzi, perché è del sole. Il sole? Il Chris lo fa apposto perché sa che mi dà testigo. Ma che cazzo dici? Vabbè. Sì, in effetti sì, lo faccio apposto. E' un patroia? No, sto ingerzando, non lo faccio apposto. No, veramente sì, lo faccio apposto. Vabbè, comunque, fa niente. LOL. Sono un cestino della spazzatura. Muori. Ricordatelo quando passi di qua. Io sono il cestino della spazzatura. Vabbè, ho fatto un culo. Stanzione, schiui quella finestra, Ritz. No. Non fino al prossimo. Oh, cut. Ah, ok. Non pensare fosse la mia, eh. Sì. No. Non uccidetevi, non adesso. Ok, potete tu uccidermi. No. No, cavolo. Basta, no. No, no. Ah, è vero, non posso usare. Non ho le mine. Ok, ho risolto il problema della finestra mettendomi indietro con la schiena. Beh, eh. Ora non riesco più a gridare come prima. Io non riesco più a passare questa ringhiera. Ah, no. Dove sei te? Dentro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Trick assurdo. No, ci sono arrivato dopo. Volevi uccidermi? Sì. Non ci sei riuscito. No, cosa ho... No. Eh, che schifo. Oh, ci sono riuscito. Ho fatto un trick assurdo, però ho sbagliato tutto. Eh, da dietro. Eh, se vedete, allora, il punteggio più alto è il suo. Quindi potete anche fare a meno di guardare in alto. Ah, guarda, sta stravincendo. No, sta stravincendo. Chi è che mi ha usato spararmi? Chi è che osa spararmi? Vuoi. Qua ci si spara a trad... Cosa è quello? No, è un scadaveri. Morita, è morita. Morita, è morita. C'è l'occhio sotto. No, no. Dov'è? Qua, bozzo. Vedo proiettili che partono. Che cazzo vuole in fondo? Io vedo solo proiettili che partono. Beh, è anche ovvio. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Madonna mia. Come il tiro all'occa, là, che... Però è stato divertente, mettiamolo. A meno finché non... Vai, vai, no. Sono esposto come una mignotta. Come una mignotta davanti alle rotonde. Vado a caso, vado a caso. Tenete... Mangiate ne... No! Guarda la tattica se sei cieco. Un secondo, voglio vedere cosa mi ha sparato. Mi ha sparato... No, non dirmi... Oddio, mi ha tirato una cetta! Mi ha beccato in pieno. Solo i bot possono farlo. Oppure i pro-gamer, quindi non noi. Guardate qualcun altro se volete pro-gamer. Vabbè, sono bravino io un po'. Io no. Però si è meritata. Perché non so. Allora, sopra vedete la visuale dell'esecuzione. Sotto vedete l'esecutore. Ahahahah. Non lo stanno anche campionando. Almeno non troppo. Almeno... No, no, sono circondato. Piano piano piano. Muori, cavolo. Puh! Cosa? Che mazza di angio ha quella roba lì? Che ne so io? Io sparavo... Che cavolo! Quella volta che mi avevo lamentato che era dietro un muro. Come non passa attraverso il muro? È anche normale, no? Che cavolo, in assenso. No, attacca, sta andando benissimo. Questa cos'è? È una... Ah, è una cosa di plastica. Ah, perché non la... Scusa, i proietti non spaccano le roba di plastica. To, venite qua. C'erano state i black ops due proietti. Wow, un FMJ. Trapassavano qualsiasi roba. Ah, c'era la FMJ nei due. Ahia. Ok, c'è stato un piccolo glitch dove si vedeva il mio mino che per un po' ha lievitato per aria. E qui c'è un mozzo cup molto grande che deve essere messo da qualche parte. Stavo scambiando il cadavere di prima per una torretta. Come hai fatto a camare? Come potremmo vedere un cadavere con una torretta. O un cerbero, un qualche diavoleria moderna. Qualche diavoleria moderna, mi raccomando. Cavolo. Ahi. E ma io faccio schifo, vabbè, come sempre. Ma... Non posso dire tu, era peggio. Bene, quindi vieni qua. Eh, coso sensitivo qui, che dà la scossa. Andiamo fuori. No, lo becc... Eh sì, lo beccato. Vieni fuori, bestia. No. Vieni a prendermi. Vieni a prendermi. Vieni a prendermi. Arrivo. Ok. Qua c'è qualcuno. Oh, beccato. Dov'è? Oh, ma... Ma è possibile che devo fare talmente schifo? Non uso mai. Io ho il bazooka. Che io di plastica. Stessa cosa. Uso la pistola ora. Uso la pistola. Piano. Piano. Sì, piano di così non posso andare, ovvio. Che cavolo, pistola di me. Wow. No, perché non mi fai il trick. No, perché non mi fai il trick. Non mi devo letto 87-80 solo per dire ma che razza di recupero l'ho fatto sti qua. Pfff. 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 Dove Miff? E hashtag assist, no io questa qua mi meritavo la kill. No adesso inseguo il mio bot e lo guardo storto per il resto del gameplay. Dove? Pfff. Pfff. Sono stato io sì. Eh sì. Stavo inseguendo un bot che è stato cattivo come me. Ok vediamo un attimo, Mi standa prima e per prima delle squadre i chris, l'ultimo I clics sarà delusione. Sei una delusione, lo so. Ultimo dei bot, guarda qua centis guarda guarda che ero proprio, guarda guarda permanata. Double kill. Tipo lo squadrone alpha arrivano e trovano una mina sotto il culo, pom morto? Io sono ultimo 9 kill 17 morti Cosa hai combinato Quello che faccio tutti i giorni Schifo Io non riesco più a giocare a sta roba E sarà peggio ancora più alto Ma io mi vergogno per te sono 9 kill Sì Cavolo cioè vatti a confessare Ma tipo fai schifo di tu Ti sei impegnato per diventarlo Ti sei impegnato per me perché Quasi Anche mia nonna se gli dico con questo spari Con questo ricarichi capisce E riesce a fare più kill di te Possiamo finirla qui Sta diventando troppo umiliante per i poveri Chris Se posso farlo vincere la prossima Così ti tiro sull'autostima Non ce l'ho più l'ho perso a tempo fa Ok ciao a tutti ragazzi